Social Podcasting. Your Digital Friends. Le poesie di Alma. Salve a tutti e a tutte, sono Giuseppe Cavalieri e oggi per Social Podcasting vi leggo una poesia dalla raccolta di Rossano Vittori, edita Il Segreto degli Invisibili, edita per l'episua nel 2018. Scheda ignoto 26. Corpo femminile 1,65 m di altezza a 60 kg, evidenti segni di fevizia. Trauma cranico rinvenuto il 13-10-2013 in località Castillon della Pescaglia, Grosseto. In noto 26. Io taccio, ma il mio corpo parla, come sa bene il medico legale che scruta le ferite. Tagi, ematomi, graffi, ustioni e lorde piaghe, satici segni del brutto che mi prese, bestia più bestia che cova dentro l'uomo. Io taccio, ma questo corpo parla, fate che infine non deliri, che tale scempio trovi soluzione, e l'empio non sfuga al suo castigo. Social Podcasting Your Digital Friends Your Digital Friends Your Digital Friends